Nuove collaborazioni, angoli ancora da scoprire, concerti di musica classica, pop, lirica e jazz, percorsi di visita guidati, presentazioni di mostre e debutti discografici, diversi eventi per festeggiare i dieci anni di chiostri acustici, il cartellone estivo ideato e programmato da Katia Cecchetti, la valorizzazione di nuovi spazi, tra cui a Città di Castello il chiostro del convento degli Zoccolanti e a Morra la piazza della Pieve di Santa Maria. Inoltre è stata attivata per la prima volta una collaborazione con Cidi Cinema per un evento che si terrà nei coltiri di Santa Cecilia. È stato confermato il naturale coinvolgimento della diocesi di Gubbio con il suo museo nel programma degli eventi culturali, così come la partecipazione di tutti i comuni elettro-tiberini, già da tempo coinvolti, vale a dire Città di Castello, Citerna, Montone, San Giustino, Monte Santa Maria Tiberina, Pietralunga e Umbertide, insieme ad altri quattro comuni della regione toscana, Anghiari, Monterchi, San Sepolcro e Pieve Santo Stefano. Inoltre è stata rinnovata l'attesione al progetto di Aboka Museum, la cui sede è a San Sepolcro. Questa edizione estiva vede in prima linea anche il comune di Liceno Niccone. Allora, innanzitutto è una edizione importante perché è la decima edizione, quindi un compleanno importante di chiostri acustici tra Umbria e Toscana, che è l'iniziativa più longeva rispetto all'iniziativa di Pasqua e di Natale, che sono rispettivamente alla settima e all'ottava edizione. Per questo motivo ci sono importanti elementi di novità. Una importante collaborazione è stata attivata quest'anno con CdCinema e quindi coinvolgeremo il cortile di Santa Cecilia per musicare dal vivo un film muto. Poi vengono confermate le adesioni dei 13 comuni, che a questo punto sono in rete, sostanzialmente anche quattro diocesi coinvolte, quindi Gubbio, Città di Castello, Arezzo, quindi Sansepolcro e Perugia. L'obiettivo di questa iniziativa è la valorizzazione del ricco patrimonio culturale in spazi che non sono solo chiostri, ma sono ville, ma sono giardini, sono palazzi, sono cortili, sono piazze, musei. Gli eventi in programma si terranno nei mesi di luglio e di agosto e riguarderanno non solo concerti di natura diversa, quindi pop, jazz, ma anche naturalmente di musica classica. Poi avremo itinerari, visite guidate, ma avremo anche presentazioni di mostre e soprattutto un debutto di un Cd discografico. Quindi molti elementi di novità, ogni edizione ha un valore aggiunto, quindi si distingue dalle precedenti, in modo particolare questa, perché è alla sua decima edizione. Alla fine sono ben 13 i comuni coinvolti nella programmazione, che interesserà i mesi estivi di luglio e agosto, con 16 eventi culturali destinati a turisti e cittadini, che inizieranno giovedì 13 luglio per terminare martedì 22 agosto. Si tratterà non solo di concerti, ma anche di tanto altro.